Buongiorno a tutti ragazzi, sono Michele e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi è lunedì 16 ottobre 2017 e faccio questo video extra perché mi è arrivato un pacco da Amazon. Tra poco mi finiva in testa, ma apriamo subito. Che bello aprire i pacchi di Amazon, un'emozione senza fine. Ma apriamo e troviamo dentro, buttiamo via questa scatola, entriamo dentro questa confezione, pagata poco, molto poco. Poi vi dico, in descrizione vi metto il link per l'acquisto. Allora, è una scatola... aiuto! Completamente in giapponese, forse i più appassionati avranno capito cos'è, ma andiamo a rimuovere la copertura esterna. Troviamo un filo rosso ragazzi, sì ho comprato un filo rosso su Amazon, eh sì lo so. Guardate che bello questo coso, diciamo coso. Qui ci sono dei libricini minuscoli, minuscoli, che sembrano le sembianze, no, sono vuoti in pra, cioè non c'è niente. C'è solo una pezzolina che serve per pulire quello che c'è dentro. Qui c'è, penso, un'altra perché è scritto in giapponese, quindi non so, bene sì, sembra un'altra pezzolina. Ma andiamo ad aprire. Bene sì ragazzi, apriamo questa confezione. Ce la farò. E' uscito. Via ragazzi. Metto dentro le due parti. Aiuto. Ok, allora io, dirvi la verità, questo è un flauto attraverso cinese, completamente in bambù, ma dirvi la verità, non ho la minima idea di dove mettere la bocca. Cioè non lo so usare, l'ho comprato perché è molto carino, ma proviamo qua. No. No. Forse. No. Dove si fa? Vabbè ragazzi, leggerò le istruzioni, ci vediamo fra poco. Bene, sto adesso editando il video che avete appena visto, però non essendo riuscito ad imparare lo strumento, io vi saluto con questo finale veramente strano. E ci vediamo al prossimo video. Lasciate tanti, tanti, tanti like ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!